Liberamente tratto di Barbara Vignolo, come si vive in una casetta di panpepato? E se star notisco guardando la luce mi riesce più facile? Dimmi se hai un libro di ricette perché forse ho sbagliato gli ingredienti della mia vita. Datemi la dose giusta. Perché forse un po' di allegria non guasta il gusto. E che cos'è l'obesità se non una indigestione di idee troppo a lungo masticate? Datemi la dose giusta. Un figurino voglio diventare.